Allora, statemi a sentire, in questa terza battaglia del sedicesimo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat 9 ora c'è da affrontare altri Revenant, ricordatevi che abbiamo sconfitto Jax, Striker e Kabal ora affrontiamo altri Revenant, il primo Revenant da sistemare è Kitana vediamo chi c'è dopo Kitana Nightwolf Quest'altri tre Revenant da sistemare sono Kitana, Nightwolf e Kung Lao però cerchiamo di non perdere non dobbiamo mai perdere perché altrimenti si ricomincia tutto da capo però ci sta andando bene il dio del fulmine Raiden ve l'avevo detto, Kitana, Nightwolf e Kung Lao anche quest'altri tre Revenant li abbiamo sistemati e poi vi ho già detto e ripetuto che questa è la terza battaglia del sedicesimo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat 9 belle sono le X-Ray di Raiden mi sembra che per oggi è tutto abbiamo finito mettete un mi piace e iscrivetevi al canale ciao a tutti arrivederci ciao a tutti ciao a tutti